Salve amici, salve amici di Mumila. Allora, vi sto facendo le riprese da, diciamo appunto, dalla postazione della produzione dello studio di Italia Mia. Italia Mia studio, ecco, vi mostro le immagini in questa mia diretta di oggi. Questa è la postazione di Italia Mia, di Marcianise, Caserta Sud, questi sono dietro di me, vediamo altre persone che hanno partecipato a questo concorso nel quale io sono arrivata terza. No, che sto dicendo? Sì, no, seconda, seconda. Era appunto un concorso, io come senior sono arrivata terza. Quindi ecco altri concorrenti che volendo mi possono rilasciare una dichiarazione, poi vediamo insomma. In ogni modo questi sono gli studi, come vedete ci sono anche degli altri concorrenti, questi sono gli studi. Un abbraccio e un saluto da Mumila. Seguitemi quindi nella pagina artistica. Germana di Natale, in arte, in arte, moon, there is the sun today, now my name in arte is Shanti. Shanti, 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 Shanti. Ed è con questa canzone Shanti Pace che ho conquistato il secondo posto nella mia categoria cantautrice. Cantautrice.